Ed eccoci qua, buongiorno, buon martedì 27 dicembre, sono le 9.34, siamo in diretto dopo questa pausa natalizia, ricominciamo, speriamo davvero che abbiate passato dei giorni sereni, questo è l'augurio sicuramente più importante e che abbiate mangiato, ma oggi ricominciamo e ricominciamo alla grande perché è venuto a trovarci uno dei volti più popolari, più amati del daytime di Rai 1, davvero un volto amatissimo, è bello, è bravo, eppure simpatico, ce l'ha tutta e stiamo parlando di lui. E direttamente dal Pareriso delle Signore do il buongiorno a Pietro Masotti, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti, dove devo guardare? Alla 3, ecco è tutta mia, tu giustamente non sei abituato, buongiorno, buone feste, un attore non deve mai guardare in camera, assolutamente non deve mai guardare in camera, anche se ogni tanto per rompere la quarta parete si fa, un ammiccamento in camera, in realtà, allora se tu guardi in macchina sei un cane al cinema, però certe volte in certi prodotti particolari si fa, è come quando a teatro rompi la quarta parete e parli col pubblico, però qui possiamo non parlare col pubblico, tranquilla, qui possiamo. Benvenuto, come stai? Bene, molto bene, hai passato delle buone vacanze? Ho passato delle buone vacanze, finalmente a Roma, dopo tanti anni, perché io sono di origine pugliese, quindi sono 17 anni che sto a Roma, ed è il primo anno che faccio il mio Natale a Roma, perché ho comprato casa da poco, quindi è venuta tutta la mandria di parenti da giù, mi hanno fatto una bella sorpresa, l'abbiamo passato insomma in famiglia. Ti sei rilassato un attimo, perché diciamo, tu hai un'agenda fittissima, siamo riusciti a trovare questo buchetto per inserirti, quindi grazie mille, siamo molto felici che tu sei qui. Ma grazie a te è un piacere, poi lo sai, sei un amico, sei un collega. Ma non lo diciamo. Non anticipiamo troppo. No, davvero, grazie mille. Senti, ma cominciamo da questo, perché ho letto una cosa, ho detto ma è possibile, ma tu volevi fare il prete? Allora, io quando ero un bambino, piccolo, ho questa passione per la religione, per la fede, da piccolo addirittura scrivevo le preghiere che poi recitavo la domenica messa sull'altare, e dopo un po' questa passione è sfuggita un po' di mano e ho deciso che volevo, poi andavo ogni tanto, una domenica al mese andavo in seminario, ed era un posto fighissimo perché oltre, vabbè, a pregare, che a me piaceva sinceramente, poi c'era il momento ludico, c'era il bigliardino, il campo da calcio, per cui per me era una sorta di paradiso. E avevo 11 anni. Non è un gioco di parole, no? No, però insomma il tema è giusto, è quello lì. E quindi a un certo punto, a 11 anni, ho detto a mia madre, io voglio entrare in seminario e mia madre ha detto no, tu non ti vuoi da qui, assolutamente no, e per fortuna perché poi... Beh, sicuramente saresti finito su uno di quei calendari, no? Dei predi belli, no? Lì ti avremmo trovato sicuramente. L'altro giorno nei fori imperiali c'era un calendario di questi... E poi chi lo sa se sono davvero preti, ma... Secondo me no, sono troppo belli, dai, è uno spreco. Eh sì, anche se poi c'è chi rinuncia poi ai voti, strada facendo, abbiamo anche suore, no? Esatto. La corona che ci insegna che hanno un giorno hanno deciso di, come dire, forse la chiamata dello spettacolo è stata troppo forte e quindi hanno rinunciato ai voti per poi intraprendere questa carriera, che è quello poi, se volevi diventare prete, poi un giorno evidentemente hai avuto un'epifania, possiamo dire così. Sì, esatto, sì. Vabbè, in realtà questa cosa del sacerdozio, insomma, della religione è finita quando ho cominciato a studiare filosofia al liceo, al terzo anno di liceo ho cominciato un po' a mettere in dubbio, studiando con lo studio di filosofia, ho cominciato a mettere in dubbio la mia fede, poi sempre al liceo ho cominciato a fare teatro e poi da lì è nata quest'altra passione. Quindi prima prete, poi filosofo, volevi diventare... Ma se non fossi entrato in accademia, e alla scuola l'abbiamo fatto entrambi, probabilmente mi sarei iscritto a filosofia e avrei... ero entrato a chitarra classica, perché tu sei un conservatorio, esatto, e quindi avrei studiato chitarra classica e avrei fatto filosofia. Che bello, insomma, però poi era destino che tu facessi la tua, perché poi a 19 anni ti sei trasferito a Roma, tra l'altro hai perso totalmente il tuo accento pogliese, perché sembri... Eh, lo so, però se voglio, però se puoi immaginare... Non ti preoccupare. Tu sei di Bari? Io sono della provincia di Bari, sono di tutti gli anni. E quindi ti trasferisci a Roma, entri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e il tuo futuro in qualche modo si delinea, diciamo, quindi teatro, hai fatto tanto teatro, poi uno, insomma, appena diplomato sappiamo la vita di un attore, no? Tanti provini cercando di trovare... Tante porte chiuse in faccia. Tante porte chiuse in faccia. E a proposito di questo, è arrivato un momento in cui tu hai pensato di mollare tutto. Sì. Vero? Sono stati vari momenti in cui ho pensato di mollare tutto, però quello, diciamo, quello più... in cui è stato forte... Una crisi profonda. Esatto, la mia crisi profonda è stata proprio nel 2019, venivo da due tournee, quindi era un periodo in cui avevo anche lavorato tanto, però poi di colpo ti ritrovavi a ricominciare da zero e ho detto basta, non ce la faccio più a fare questi alti e bassi, io adesso mi iscrivo a Scienze Motorie perché ho la passione anche per l'allenamento e mi ho detto fare il personal trainer, insomma, apro un mio studio, è una passione che coltivo ancora... Certo, comunque è un piano B che sta sempre lì, eh? Esatto, è una sorta di piano B che sta ancora lì in cantina, non si sa mai, e mentre dicevo queste cose a questo mio amico al telefono, chiudo la chiamata, entro in palestra, metto sotto la panca... Sì, 100 kg stai lasciando, una cosa del genere. 100 kg, mi squilla di nuovo il telefono, chi è? È il mio agente e mi dice, guarda, ti hanno preso per il paradiso delle signore, sei pronto? Giravi il giorno dopo magari? Eh, due giorni dopo, tra il caldo e i 100 kg stavo per rimanere sotto la panca piana, però insomma... Perché era estate? Esatto, era estate, sì, sì, era i primi di agosto e io ho cominciato a girare che era tipo il 10 o il... Quanto sei stato felice di ricevere questa telefonata? Molto, è stata una cosa ovviamente che mi ha cambiato la vita perché poi ti dà popolarità questo prodotto, ti dà anche tanta continuità perché la possibilità di lavorare 8-9 mesi l'anno e appunto se vieni rinnovato poi lavori... Esatto, ma adesso ci arriviamo. Esatto. Intanto vediamo questa bellissima foto alle tue spalle che riproponiamo anche noi dalla regia. C'è un po' il tuo alter ego, ecco, da una parte abbiamo Pietro, eccolo qua e dall'altro abbiamo il personaggio che interprete, ovvero Marcello Barbieri. Quale dei due sei di più? Faccio una domanda alla Marzullo. Oddio, alle volte non lo so, sai. Cioè, l'arte imita la realtà. Molto spesso quando sento Marcello in strada mi giro perché molto spesso ce l'hanno con me, perché mi chiamano col nome del personaggio, però sono due vite parallele che alle volte non sono così parallele e si incontrano. alle volte sembra che gli sceneggiatori ci piazzino una cimice in casa e ascoltino i nostri fatti perché le cose che succedono al personaggio hanno anche un po' a che vedere con le cose che ti succedono nella vita, no? Però ovviamente io prendo le distanze, cioè io sono Pietro e Marcello Barbieri sta bene lì dove sta. Senti, rinfrescaci la memoria. Sì. C'è un carcere che è ancora un po' scapestrato, gioca d'azzardo e pian piano, grazie appunto alle nuove amicizie che riesce a formare a Milano, mette la testa a posto. Quindi rileva questa attività della caffetteria, poi si innamora di questa ragazza aspirante ingegnere con la quale gioca questa schedina ai cavalli, questa scommessa ai cavalli e vince, quindi trova i soldi per rilevare questa caffetteria e avviare questa attività. Diciamo che la storia d'amore poi ci deve essere sempre. Sì, è sempre l'amore, il pubblico vuole sognare, poi si immedesima con la storia, ne parlavamo prima, partono le veri e propri fandom, proprio dei teams, ci sono vari tifosi, c'è chi, come dire, parteggia per una coppia, chi per l'altra, perché fanno la crasi tra i cognomi dei personaggi. Qual è la vostra crasi? Allora, questa con Roberta Pellegrino, che era l'altro, per esempio, Marcello Barbieri, Roberta Pellegrino, sono i Barbegrino. I Barbedrino? I Barbegrino. Ah, ok. Poi il mio personaggio con Ludovica Brancia, che invece è questa altra ragazza, questa nobile, è diventata i Braceri, e adesso non è ancora nata la ship, nel senso che ancora i due personaggi non hanno avuto, ancora non hanno avuto una… Però, work in progress. Non si sa, non lo possiamo dire, non hanno avuto questa contessa di Sant'Erasmo, per cui Barbieri e Sant'Erasmo diventa Barberasmo. Ah, ecco, sembra il nome di un cinema. C'erano delle vere e proprie tifoserie, no, Barbegrino, Braceri… Beh, insomma, questo Marcello si dà da fare. Beh, per fortuna sì. Dici sì. Molto di più di meno. Poi sta facendo una bella scalata sociale, insomma, ha addirittura una contessa. Beh, sì, lui sta facendo una scalata sociale, sì, sì. Sì, sì, sì. Beh, è un po' una storia degli anni 60, che magari per quell'epoca non era così inconsueta. Certo, ma la contessa è più grande? Sì. Ah, ecco, quindi è andata un po' più matura, diciamo. Ma detta così sembra che lui fa carriera perché diventa il toy boy. No, no, no. Ma ancora non c'è stato niente. È un ragazzo molto umile perché poi rileva questa caffetteria, quindi comunque ha i piedi molto piantati per terra. Sì, 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 sì. È anche un po' spavaldo, il bruffo, insomma, ma è un personaggio a 360 gradi. E mi raccontavi che si creano proprio delle fazioni, nel senso nel momento in cui ti ho lasciato, il tuo personaggio ha lasciato la sua prima fidanzata, apri il cielo. Te l'hanno detto di ogni… Eh, sì, perché poi chi ama quella coppia, nelle coppie che si susseguono, magari non trova la stessa chimica, la stessa intesa che vedeva in quella prima coppia che ha amato, Sì, sì. Per cui, sì. Che ti dicono per strada quando ti incontrano? Perché ormai, diciamolo, parliamo di un prodotto Rai che fa il 18, il 19, il 20, di puntare il 21% tutti i giorni, quindi grande popolarità. Guarda, la cosa più gratificante è sapere che comunque riusciamo a regalare quei… ed è quello che mi dicono spesso in strada, ma anche sui social, quei 40 minuti di serenità, di spenseratezza, di… sì. Sì. E alle volte anche in situazioni difficili come la malattia riusciamo lo stesso a portare quella… quel momento, riusciamo a regalare questi momenti di serenità. Sì, quindi è quello che ti dicono… Questa, insomma, è una gratificazione enorme perché ti senti utile per la società, no? Certo. E poi si affezionano a te, ti chiamano col tuo nome. Esatto, mi chiamano… Da fastidio quando poi ti chiamano col nome del personaggio. No, no, no. Però è più piacevole quando ti chiamano con… Beh, tu hai un nome bellissimo, se posso. Pietro. Che da piccolo mi piaceva tanto. Non ti piaceva, no, no, no. Poi ti rispecchia, secondo me, tu sei proprio così bello piazzato. Piazzato, sì. Pietro. Senti, io so che con questa esperienza, no? Che ormai fai da 3-4 anni, giusto? Hai trovato, come dire, meno ansia, come dire, sei molto più sicuro di te stesso. Sì. Come mai questa cosa? Rispetto a prima, cos'è che prima ti rendeva ansioso? Nel senso, vivere nell'incertezza? Beh, sì, anche il non vedere una realizzazione, no? Professionale. Per carità, noi non siamo quello che facciamo, ma siamo anche quello che facciamo. Eh sì, certo. Per cui non riuscire a vedersi… Nel mondo, in una determinata maniera, mi dava tanta incertezza, mi dava tanta insicurezza. Dico, cosa ci sto a fare su questa terra se non ho la mia parte, se non ho il mio ruolo? E quindi, appunto, si riconnette anche al discorso che facevo prima. Sì. Perché, ecco, lo sappiamo, la vita dell'attore è una vita dura, nel senso, oggi magari si lavora, domani non si sa, si vive un po' questa incertezza. Tu con questo lavoro sicuramente hai acquisito una sicurezza, una stabilità maggiore, no? Sapendo che per nove mesi l'anno si è impegnato. Mentalmente è importante, credo. Sì, sì. Sapendo che la mattina ti alzi e fai qualcosa di bello. Perché è chiaro che tu ami il tuo lavoro, si vede. Ma poi, appunto, avendo, come tanti che fanno questo lavoro, avendo investito tante energie, avendo riposto tanta aspettativa, poi noi abbiamo fatto una scuola dove è molto difficile entrare, no? C'è una bella selezione, per cui, quando entri in questa scuola, un po' ti illudi che ormai… È fatta. È fatta. È per te. È il tuo lavoro. Poi esci da questa scuola… È la giungla. È della giungla. E quindi, insomma, è dura. È tosta, è tosta. È dura, è dura. È tosta, però tu sei sempre stato uno del grande talento, Pietro, te l'ho sempre detto. Grazie. Sei sempre spiccato. Amico mio. No, 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 lo dico davvero. Tra l'altro, insomma, vi raccontiamo questo aneddoto. Io e Pietro abbiamo avuto… Diciamo che l'incontro con Simone ha lasciato su di me una cicatrice indelebile, ma non nel senso metaforico, ma nel senso vero. No, no, proprio vero. Da che lato è? Mi sa da questo. No, spieghiamo, contestualizziamo. Facciamo uno spettacolo, un'opera di Shakespeare rivisitata. Io ero un greco e tu un troiano viceversa. Io ero Ettore e tu eri a Iace. Io a Iace. C'era questo combattimento piuttosto, insomma, acceso e durante questo combattimento con delle spranghe, questa mia spranga che insomma impugnavo… Dubi innocenti delle impalcature. Ecco, l'ha colpito Pietro che forse oggi non potrebbe essere… non sarebbe qui, però sei sopravvissuto. No, e poi, insomma, poca roba, due punti. Sì, due punti, però… Però lì per lì un po' di spavento c'è stato perché è cominciato a uscire questo sangue un po' a fontanella, le ragazze si sono un po' impressionate, qualcuno ha urlato, quindi c'è stato un po' un momento di… Molto come dire cinematocratica. Sembrava, ecco… Oddio! È presente quando, no, nelle opere di Agatha Christie, no, ci scappa il morto sulla scena. Però, insomma, ecco ti qua, oggi sei qua con noi. Sì, 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 siamo rimasti in buoni rapporti. Sì, nonostante questo. Non l'ha fatta apposta, spero, no, 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 ti è sfuggito. Nessuna competizione, no. Senti, domande a Raffica, quello che ti viene in mente, ok? Chi vorresti avere ospite a cena per una sera, se potessi scegliere fra tutte le persone del mondo? Anche non più viventi, eh? Oddio mio! Difficile? Eh sì, è complicato. Oddio. Te ne faccio un'altra e ci pensi? Sì. Sì? Ok. Attori preferiti in assoluto? Daniel Deleuze. Sì. Daniel. Django, giusto, me lo ricordo in Django. Il Petroliere. Sì. Il Petroliere. Il Petroliere, vabbè, Gangs of New York, insomma. Il mostro sacro. Filo nascosto. Il film del tuo cuore? Che questa è complicata, eh? Ultimo Tango a Parigi. Ultimo Tango a Parigi. Sì, perché è uno di quei film che ho visto in adolescenza, mi sono innamorato di questo attore, di Marlon Brando, altro attore straordinario. Io ho fatto, ho detto, di quelli viventi, eh? Attori preferiti di quelli viventi. Poi... Assolutamente. Ti piacerebbe fare un remake? Di Ultimo Tango a Parigi? No, ormai sarebbe, come si dice, anacronistico. Sì, sicuramente. Appunto, se ti scritturassero per il remake di un capolavoro del passato, che ti piacerebbe fare? Eh? Ce l'hai, mi sa, questa? Il Padrino. Il Padrino? Il Padrino, sì. Sì, sai fare l'accento... L'accento siciliano, ma lì non lo fanno, va bene, l'accento italo-siciliano e l'americo-siciliano. Nel Paraliso delle Signore tu hai un accento neutro, però... Sì, un accento neutro, ogni tanto ci metto qualche sporcatura di milanese, ma proprio leggerissima, perché parlo in italiano, però... Come fai il milanese? Come sarebbe Pietro milanese? Pietro? Sì. Eh, non so se si dica Pietro lì, eh? Pietro? Pietro. E vabbè, sai, ho dei parenti, però ecco, non parlo così. Se papi non dai cash. Com'è un giorno perfetto, secondo te? Un giorno perfetto? Sì, il tuo giorno perfetto. Che ci deve essere nel tuo giorno perfetto? Un po' di lavoro, poco, necessario, un po' di attività fisica, e poi un po' di serenità e di tempo con la mia ragazza. Certo. E' il mio cane. Perché tu hai un cane bellissimo. Sì, vi ho visto fare il bagno insieme a novembre, lui non ti ha seguito, però insomma mi sembrava un po' preoccupato. Era molto preoccupato. Tra l'altro tu sei fidanzato da tantissimi anni. Da Tantan, 2008. 2008, quindi al contrario del tuo personaggio, ecco, una storia molto lunga. Esatto, ecco qui, proprio una differenza abissale tra l'attore e il personaggio. Questa è proprio la vostra differenza principale. Sì, sostanzialmente sì. No, ma diverse, però questa è una di quelle più marcate. Quando è l'ultima volta che hai cantato fra te e te o davanti a un pubblico? Allora, l'ultima volta che ho cantato davanti a un pubblico era uno spettacolo, sì. Ragazzi di vita? Sì. Abbiamo fatto in tutta Italia, qui a Roma al Teatro Argentina, la regia di Popolizio, insomma è stato un bel collino guanciale, è stato uno spettacolo che ha avuto molto successo e lì cantavamo. Sì, ho visto qualche foto, ad un certo punto eravate, se non sbaglio, tutti in intimo. Sì, c'era la scena del Ciriola. Eccolo là, sì. E spieghiamo, era insomma un fiume, una scena che racconta questi ragazzini che fanno nel bagno e nel Tevere, noi eravamo tutti in mutande. Lo riporterete in scena? Perché è uno spettacolo bellissimo, l'ho visto. Non lo so, lo abbiamo portato in giro tre anni, se non sbaglio. Però a proposito del canto, io so che ti piace cantare, sei anche molto bravo, tra l'altro suona la chitarra. Vediamo un attimo come te la cavi? Vai, vai. Prego, regia. Tanto sta, è pubblico per cui. Per il canto, io so che la cavi… Beh, vai. Beh, vai. Beh, vai. Beh, vai. Beh, vai. Beh, Pietro, complimenti, la voce è bellissima. Beh, sì, strimpello, dai, non ho aspirazioni da cantante, però mi diverto. Magari faranno, insomma, potrei usare questa tua abilità anche sul set? Sì, appunto, a teatro è successo, è successo diverse volte anche di suonare, è una cosa che mi fa... Però Marcello Barbieri, cantante, alla festa di Natale, vabbè, ormai l'abbiamo passata, l'anno prossimo. No, però loro trovano il modo di infilarle queste cose, per cui domani mi aspetto. Pensaci, non sei mai visto in quattro anni che suona e che canta. Ecco, appunto, forse è il momento... I vari talenti nascosti del personaggio. Esatto, senti, questa è una canzone bellissima che hai intonato, Blow in the Wind. Una canzone per la pace, forse è più che mai attualissima. Era il periodo in cui, appunto, era scoppiata la guerra in Ucraina. Per cosa li senti più grato e fortunato dalla vita, Pietro? Per riuscire a fare questo mestiere. Ci vuole talento, ma ci vuole anche tanta fortuna, perché di gente brava in giro ce n'è veramente tanta, per cui poi quando ti capita l'occasione giusta, sì, sei stato bravo a creartela, ma sei stato anche tanto fortunato. Sì, perché c'è un aneddoto anche, se non sbaglio, la persona che aveva ottenuto il ruolo di Marcello Barbieri, questo è agli atti, eh? Sì, 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 l'ho raccontato io, esatto, io ero la seconda scelta. Era la seconda scelta. E lui per una ragione X... E' andato a fare altro e dopo c'ero io. Bene, siamo felici così. Era così, Pietro era scritto nel destino e sono davvero felice per te. Ma ce l'hai un difetto, Pietro? Eh, a voglia. Sì? Sì. Beh, sono un po' un testardo per certi spieghi. Che può essere però anche un pregio. Sì. Sì. Alle volte mi isolo dal mondo. Mi isolo un po' un po'... Abbiamo una cosa in comune? Sono un po' ludopatico. Sì. Ogni tanto anche questa ludopatia mi porta a isolarmi dal mondo. E alle volte sono fumantino. E non so gestire un po' la rabbia. Se una situazione non mi va bene, ho confidenza. Sì. In questo ambiente dove accade questa situazione non mi va bene, io sbotto molto facilmente. Anche sul lavoro ti capita a volte? Sì. Sì? Quindi non hai paura comunque di dire la tua? No, non ho paura di dire la mia, però potrei contenermi. Di più. E dirla in un altro modo. Perché a volte sul set magari ci sono cose che non vanno come andassero. Sì, poi noi facciamo una grande corsa contro... È una macchina da guerra. È una macchina, per cui... L'imprevisto, comunque il fatto spiacevole è sempre così dietro l'angolo, no? Sì. E quindi alle volte reagisco un po' in maniera troppo fumantina. Beh, perché comunque se uno che si appassiona... Sì, sì, lo faccio per quello, lo faccio. Non per fare una scenata... Perché sono uno dei difetti che ho, sono un perfezionista, per cui non sono mai contento di quello che faccio e questa cosa mi provoca tanta frustrazione. Senti, ti è venuto in mente con chi vorresti passare una serata a cena del passato? Una serata... Qualsiasi persona nel mondo, eh? Vabbè, diciamo con me. Dai, che così andiamo a cena. Dai, dai, con Simone. Ecco, che c'era tanto tempo che non ci vediamo. E' tanto tempo che non ci vediamo a cena. A cena ci raccontiamo un po', ma comunque, insomma, è stata una bellissima chiacchierata, Pietro, sono molto felice che tu sia venuto. Anch'io, felicissimo. Un proposito per l'anno nuovo? Proposito per l'anno nuovo? Non ce ne ho. Non ne hai? Vado bene così con i miei difetti. Bene. Vado bene così. Una magari un'abilità che vorresti acquisire. Non farsi influenzare troppo dal giudizio degli altri. Eh, quello è difficile, eh. Soprattutto chi fa questo mestiere... Questo proposito me l'ho riposto anche l'anno precedente, ma non ci sono funzionato ancora. È difficile, è una cosa molto difficile riuscire a... Che poi, per carità, il giudizio degli altri può essere anche formativo. Uno stimolo, certo. Stimolo, però poi a volte... Poi con i social è facilissimo, no? Eh sì. Sbattere contro questa... Contro appunto il giudizio degli altri. Sì, diciamo poi sui social ognuno dice la sua... Ognuno dice la sua, magari hai sotto un post hai 350 commenti positivi, poi c'è un commento negativo... E ti disturba? E tu, tutto il tempo, per due giorni magari, pensi a quel commento negativo. Non pensi ai 300 positivi, no? Non so se capita anche a te. No, certo, comprendo perfettamente. Uno si fossilizza di più sulle cose negative, però insomma non si può poi piacere a tutti mettere d'accordo tutti, uno dovrebbe fare pace con questo. Esatto, ma questo razionalmente è un discorso che ti fai... Certo, che razionalmente... Ogni volta fila, però poi... Lo dice a me che quando gioca a padel mi arrabbio, invece non mi dovrei arrabbiare, è un gioco, invece poi sta all'altro e arrabbio. Chi lo dice? Mi arrabbio quando gioco a FIFA. Ecco, meno male abbiamo... Non solo l'unico, allora. Anche quando gioca a calcio, ma... A FIFA di più mi arrabbio molto. Pietro, il tempo è volato. Io ti ringrazio per essere venuto a trovarci. Grazie a te. Insomma, le signore a casa... E non solo, insomma, saranno sicuramente stati contenti di vederti. Ti auguro un buon anno. Siamo passati al Natale, qui finalmente si può augurare buon anno. Esatto. E a prestissimo. A presto, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie Pietro Masotti. E noi ci vediamo tra pochissimo, rimendete lì, eh. A tra poco.